Sono Alberto Vergalli, ho 49 anni e sono consigliere comunale del Partito Democratico, uscente, sono sposato con Marcella e un bimbo che si chiama Lorenzo, abito a Loreto. Mi ricandido per il secondo mandato come consigliere comunale perché penso che abbiamo fatto bene, il centro-sinistra e il sindaco Gori in questi 5 anni ha fatto bene, ha dato dinamicità e grande slancio a questa città, ma l'ha fatto senza dimenticare il principio dell'equità sociale. Il tema della bellezza del nostro territorio e il tema anche della salute dei nostri concittadini, credo che questi siano tre impegni fondamentali anche per il secondo mandato, mantenere questo slancio, mantenere questa voglia di fare, portare a compimento le tante cose che sono state fatte che a volte necessitano più di 5 anni, però ricordando sempre che la città deve essere salvaguardata dal punto di vista dell'equità sociale, cioè quindi dell'uguaglianza, di chi sta peggio, mantenendo la bellezza di questo territorio che è incredibile rispetto a altre città e soprattutto pensando al futuro e alla salute dei nostri concittadini. In modo particolare credo che l'impegno del prossimo mandato per il centro-sinistra sia il tema dell'inquinamento dell'aria, bisogna far di tutto perché attraverso il verde, attraverso il controllo dell'inquinamento dell'aria, attraverso il traffico e quant'altro si possa respirare meglio in questa città. Grazie.